È ancora il mio avversario che viene verso di me, ma viene con i pugni. Potrà venire nell'esercizio di oggi con un diretto braccio sinistro, un diretto braccio destro. Quello che io vorrò fare è un movimento che coordina il tronco, il braccio e la gamba dietro, cioè sono in guardia, vado a deviare e chiudo la distanza. Quindi un movimento sarà il abbassare ancora più il mento e uscire all'esterno, non all'interno, all'esterno. Non spostando tutto il tronco in blocco, ma spostando prima la testa e poi il resto. Spesso vengono insegnate le schivate muovendo il tronco? No, è la testa che comanda. Ovviamente chi vede, vede tutto il tronco, ma parte dalla testa perché è quella che non vuole prendere il corpo e il corpo segue. Tanti insegnano a fare sul guantone, ma se io dirò un jeb e uno mi blocca sul guantone, poi io posso andare a dare una gomitata. Il terzo movimento, ma è da fare in contemporanea, è un passo avanti. Ok, questo è il diretto di cui parliamo, ok? Vuole arrivare sulla mia faccia. Prima di tutto andarmene, cioè la priorità non è il passo, no, la priorità non è deviare, no, la priorità è che me ne vado. Quindi lui dirà il pugno e io me ne vado. Come vedete non l'ho mandato via, non sono interessato a mandarlo via. Per avvantaggiarlo a tirarmi uno spinning backfist? È follia. Abbiamo detto sono tre movimenti, devo andare in avanti, quindi io sono in guardia, lui va a colpire, io vado in avanti. Tre movimenti, facciamo i primi due insieme e il passo dopo. Quindi uno e due. Arriva il pugno, non devio, me ne vado e tengo in copertura e poi faccio il passo avanti. Paro e sposto. La gamba dietro ci assiste, cioè esagero, non ho le gambe dritte e piego il tronco così. No, ho le gambe flesse e quando vado a destra il peso va più su questa gamba che mi sostiene un po' si flette. Voglio andare a cinturare il tronco del mio avversario. Non dovete scendere su tutte e due le gambe, non dovete scendere al centro quindi, ma dovete scendere diciamo su uno dei due piedi, cioè sul piede della gamba che è andata in avanti quando avete fatto il passo. Sto scendendo sulla destra e vado a guardare il mio piede sinistro. Jeb, io faccio il passo, ok? Qui afferro, lo stringo a me, scendo e poi tiro e mi trovo qui. Non è indispensabile andarci sopra, ma vedrete che è naturale. Afferro, scendo e ruoto a sinistra, cioè voglio continuare quella rotazione. Afferra, scendi, no, no, metti il sedere a terra, non il ginocchio a terra. Molto meglio, brava, vale, va bene. Vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? Ciao, sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina. Sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti, fai una lezione gratis con me, datti questa opportunità. Clicca il link che trovi in descrizione.